quella di Atene fu quindi una democrazia diretta e aveva questi caratteri il popolo esercitava direttamente il diritto di proporre e votare le leggi controllava attraverso l'ecclesia in prima persona l'operato delle magistrature e poteva revocare gli incarichi attraverso delle precise procedure definite dalle leggi oggi invece negli stati democratici la democrazia non è diretta ma rappresentativa vale a dire che il popolo delega ai rappresentanti che elegge il diritto di proporre e di votare le leggi il controllo sull'operato dei governanti avviene soltanto alla scadenza del mandato elettorale tramite il voto e il popolo quindi negli stati democratici non possiede degli strumenti di revoca diretta del mandato